Scuole Fisco è il tema del concorso promosso dall'Agenzia delle Entrate e dall'Ufficio Scolastico Regionale con lo scopo di educare gli alunni ad una sana cultura dei tributi per salvaguardare diritti, servizi ed equità sociale. La premiazione finale si è svolta a Catanzaro. Un importante appuntamento che l'Agenzia rinnova peraltro ogni anno. Quest'anno i ragazzi delle scuole elementari si sono cimentati in alcuni lavori, alcune storielle molto indicative che possono far da leva un futuro migliore, un futuro di legalità. Realizzare questi protocolli di intesa in piena sinergia con tutte le istituzioni aiuta noi a far crescere le persone in maniera sana e far diventare degli uomini perfettamente integrati e socialmente integrati. Socialmente integrato significa essere rispettosi delle norme e vivere secondo legge.